È stato inaugurato questa mattina il nuovo Burger King, che ha sede in Via Rinalda a Castelmella, Brescia. Una struttura di 550 metri quadri, con 220 posti a sedere e che ha dato 28 nuovi posti di lavoro. Tra i servizi, il King Drive, Play King interattiva in compagnia degli animatori del ristorante, servizio Wi-Fi gratuito e tavoli dotati di prese USB per ricaricare i propri device. La scelta è data, noi abbiamo già aperto vari locali nella provincia di Brescia e in questa zona mancava proprio un Burger King e quindi la scelta è stata data proprio dalla mancanza di un punto vendita in questa zona. La voce già girava da qualche giorno dell'apertura e quindi c'è stato un buon passaggio durante queste sere. Abbiamo sempre delle promozioni, sempre attive comunque anche in tutti gli altri locali e abbiamo la nostra Fidelity Card che darà diritto a vari vantaggi per tutti i nostri clienti. Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo e nei prossimi mesi, nelle prossime stagioni, il numero dei ristoranti nell'area di Brescia continuerà ad aumentare. Quindi già per la fine di quest'anno avremo altre due aperture, non svegliamo dove saranno, ma entro la fine del 2017 l'area di Brescia conterà, oltre a quella di Castelmella, altre due aperture Burger King. Il locale sarà aperto 365 giorni l'anno, quindi anche compresi i festivi. Partiamo con delle aperture durante la settimana, dal lunedì al giovedì, dalle 11 del mattino a mezzanotte e il venerdì e sabato dalle 11 del mattino alle 2 di notte. Proseguiremo poi con l'orario estivo, comunque ancora da confermare, con apertura fino alle 5 del mattino durante la notte. L'ora aggiunto è il servizio drive, servizio molto apprezzato dal pubblico bresciano. Questo è un nuovo tipologia di drive, quindi cercheremo di accontentare più velocemente possibile tutta la nostra clientela. Per arrivarci siamo molto comodi, siamo a 5 minuti dal nuovo centro commerciale Elnos di Ikea, uscita a Brescia Ovest dell'autostrada 4 o della tangenziale. E posso confermare, mi permetto che per quanto riguarda la segnaletica, ho fatto l'esperimento di non mettere il navigatore uscito da Brescia, la segnaletica è perfetta e porta direttamente al ristorante. Grazie.